Sì, sì, è un punto importante, sapevamo comunque che incontravamo una bella squadra, quindi siamo contenti di questo punto. Peccato che non sia riusciti a fare il secondo gol, però dobbiamo continuare così su questa strada. No, è stato bello perché appena sono entrato abbiamo fatto gol, quindi ero molto felice di aver risultato con la squadra. Allora, ero molto contento, spero di continuare così. Il mister mi ha dato molti consigli, mi spiegava i movimenti, perché comunque mi alleno con la squadra da due o tre giorni, quindi devo ancora entrare nel meccanismo della squadra, però sono sicuro che possiamo far bene insieme e darò il massimo per questa squadra. Sì, sì, sicuramente incontriamo una grande squadra e questa settimana la prepareremo al meglio.